Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Ander Zetta e oggi vi farò vedere come mettere sogni infiniti su FIFA Quincy Allora, apriamo FIFA Quincy e andiamo su principale Andiamo a perdere l'allenatore E scegliamo la nostra squadra, naturalmente Vicenza, Serie B Allora, Vicenza Europa Disputta, principiante, seguenti I might be wrong, but I got something to say. I'm forward-thinking, preposition's nice. I hate the binding of the sound. Let's go. Get steady. Cuglia del coro. Get ready. Get steady. Cuglia del coro. Get ready. Get steady. Cuglia del coro. Get ready. Get steady. Cuglia del coro. Ok. Scornare avanti. Antipozza, ragazzi, che creiamo il profilo. Metto. Ok. Perfetto. Allora, se ricordo bene, dobbiamo andare qui per far soldi finiti. Ehm, ufficio, contratti. Sì, qua. Allora. Vedete qui? Siamo di 100.000. Andiamo su chat engine. Scriviamo. 200.000. Vedete? Adesso torniamo qua. Adesso dobbiamo scartare qualcuno. Non è giusto. Adesso. Vediamo questo. Non mi aspetta. Non si fa. Ordinther preventiva. dobbiamo purtroppo in amanti qua portiamo un po di pazienza ragazzi perché ho scelto una squadra che ha più il budget e quindi vediamo se c'è qualcosa per noi aspetta vedete ragazzi quanto me lo da? accetta l'avanzo è fatta ok perfetto ah qua devo vedere ok 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 prima tornare in contratti sempre 200 miglia simuliamo la partita siamo più veloce speriamo di vincere la ragazzi niente zero pari ah no sta andando adesso cerchiamo noi stiamo vincendo ragazzi dai abbiamo vinto mi sembra tra zero si tra zero abbiamo vinto ragazzi ok andiamo su contratti perfetto ora possiamo farlo allora un attimo in pazienza allora 816.250 ok 816 poi 250 perfetto andiamo qua mettiamo ah si questo perfetto 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 vedete abbiamo un somma di 2 miliardi vedete ora pensiamo a questo 6 i budget stipendi dei marti 6.000 perfetto Grazie. Scusate, so che è lungo ma per farvi vedere devo fare queste cose. E speriamo di vincere anche questa partita. Ti prego signor, fa che la vinciamo. Niente, pari, 1 a 1 dai, buona. 10 contratti, sempre 6 mila, ormai no. 10 contratti, sempre 8 mila, oi? Che cosa stai? Che cosa stai? ok suscritto ecco andiamo a vedere se funziona ragazzi andrà tutto bene spero 3,500 3,5,1,2 3,5,1,2 ok forse ce la facciamo dai ragazzi 2 miliardi 1,2,3 1,2,3 1,2,3 ok andiamo indietro e torniamo con tratti e abbiamo finalmente anche qua vedete ecco siamo a 2 miliardi ora salviamo andiamo a 2 miliardi per salvare non mi ricordo anzi press salva la licenza si ok 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 bene il video è terminato spero di essere vi stato d'aiuto anche con il chat engine vi lascerò il link in descrizione dove trovate il chat engine così potete fare anche voi e niente ci vediamo alla prossima da Nelzezza tutto a presto ciao ragazzi